I normanni. Bene, terminate le invasioni nel novecento d.C., nell'undicesimo secolo dopo l'anno 1000, l'Occidente torna a espandersi, è un momento, una fase quasi di entusiasmo potremmo dire, quella dopo l'anno 1000. Abbiamo infatti già fatto un incontro sulla svolta dopo l'anno 1000 dal punto di vista economico, commerciale. Abbiamo fatto anche delle dirette sulla lotta per le investiture tra Gregorio VII ed Enrico IV. Ecco, quindi abbiamo già fatto tantissimi incontri interessanti. Ecco, adesso qui intanto abbassiamo il volume, altrimenti le notifiche ci disturbano un po' su Instagram. E oggi appunto parleremo dei normanni. Le prossime volte parleremo della prima cruciata, che ci sarà verso la fine di questo undicesimo secolo. Oltre al Medio Oriente, all'Europa, al Medio Oriente, diciamo il Mediterraneo, l'Italia, la Spagna e oggi vedremo anche l'Inghilterra, sono interessate da questa fase di espansione dell'Occidente, di stabilizzazione rispetto al periodo precedente delle invasioni, di crescita tra virgolette dell'Occidente cristiano, vedremo la prossima volta anche a danno del mondo islamico. Protagonisti sono anche le città marinare, anche sulle città marinare abbiamo fatto già una lezione. Oggi vedremo però altri importanti protagonisti di questa fase di espansione dell'Occidente, che sono i normanni. I normanni sono nient'altro se non i discendenti di quegli stessi vichinghi che avevano invaso la Francia e tantissime altre regioni nel Novecento, quindi appena un secolo, un secolo e mezzo prima. Ma adesso i normanni sono pienamente integrati nel mondo cristiano. I normanni o da nordmanni o nordmenner, significa questa espressione lo potete già intuire da soli, uomini del nord, erano un popolo norreno, quindi scandinavo, che poi appunto attraverso le invasioni si stanziò in Normandia. Lì appunto ci fu un insegnamento importante con il primo re normanno che arrivò quasi a insidiare Parigi e il re di Francia fece un accordo con questo re normanno concedendogli quella regione che da quel momento in poi si chiamerà appunto Normandia, a condizione però che i normanni, che questo re e tutti i suoi sudditi, si convertissero al cristianesimo. Ebbene i normanni accettarono questa condizione e questo permise loro di integrarsi totalmente nella cristianità. Da qui tutta una serie di re, i re della Normandia, re francesi appunto, della Normandia che come ho detto diventarono uno dei vassalli più importanti del re di Francia. Cioè erano partiti i vichinghi dalla Danimarca e dalla Norvegia e poi giurarono fedeltà al re di Francia, si chiamava Carlo III all'epoca, però ottennero in cambio questa vasta superficie territoriale nel nord del regno dei franchi occidentali. Ecco, per fortuna la cultura norrena era abbastanza un po' primitiva diciamo e aperta comunque versatile, aperta a nuovi cambiamenti, al nuovo insomma ad essere, ad integrarsi con altre culture. E questo li portò ad occupare territori europei diversi anche fra loro, integrandosi man mano con i popoli europei sia del nord Europa sia del sud dell'Europa. L'insediamento in Normandia risale al 910 d.C. Dopodiché ci saranno nuovi viaggi, nuove avventure. Erano ovviamente originalmente dei navigatori, questi normanni, e quindi continuarono a essere uomini di avventura che a un certo punto anche cercarono nuovi sbocchi, nuovi lidi. Ecco, è il caso per esempio dell'Italia meridionale. Giunsero per la prima volta in Italia meridionale nel 1017 circa, e poi adesso vedremo subito l'Inghilterra, oltre alla Francia, abbiamo detto la Francia nord orientale, dove si erano stanziati sin dal 910. Approfondiremo quindi oggi soprattutto la costituzione di regni di Normanni in Inghilterra e in Italia meridionale, scopriremo come sin dal 1130 si formò una contea di Normanni, un conte normanno, chiamato Conte di Puglia, che era la dinastia degli Altavilla, che proseguì per un secolo e mezzo, fino a quando non si integrò perfettamente con la dinastia degli Hohenstaufen, quindi con gli Svevi, e infatti uno di essi sposò Costanza d'Altavilla, l'ultima erede di questo regno. Ma adesso non anticipiamo troppo. Andiamo a vedere la cartina che ci mostra proprio quali sono le principali direzioni di espansione dei Normanni. Abbiamo detto la Normandia nel nord della Francia, l'Inghilterra, ma vedremo che ci sono testimonianze dei Normanni anche in Scozia, in Galles e in Irlanda del nord, e perfino in Spagna. Però poi una delle direttrici fondamentali dell'espansione dei Normanni fu l'Italia meridionale, la Puglia, la Carabria e la Sicilia, e poi vedremo che parteciperanno anche alle crociate insediandosi proprio ad Antiochia. Intanto salutiamo anche Simone Paoleschi, presente qua su Instagram. Anche si volsero verso Tripoli, indubbiamente all'interno di quelle operazioni militari di conquista europea del Mediterraneo. Adesso osserviamo una delle chiese che prende le sue origini proprio alle sue origini dall'insediamento dei Normanni. Infatti a Caen, in questo paese, in questa città della Normandia, si insediarono molto presto in Normanni, quindi abbiamo detto già nel X secolo d.C., diventò quasi una specie di capitale questa, e dimostrarono immediatamente la sincerità della loro conversione al cristianesimo anche con la costruzione di alcune chiese. Ecco, questa chiesa poi ovviamente rimaneggiata nel corso dei secoli ha origine dai Normanni alla chiesa di Santo Stefano a Caen. Ricordiamo appunto quello che era successo nel 1910-911. Carlo III e semplice, re dei franchi orientali, concesse, grazie a un trattato di St. Clair sull'Epte, agli invasori normanni una porzione di territorio lungo il basso corso del fiume Senna, quindi quando il fiume ormai si dirige verso il mare. Poi questo piccolo terreno andò espandendosi, diventando il Ducato di Normandia. Abbiamo visto anche nella cartina precedente un territorio piuttosto consistente. Ci ricorda per esempio lo sbarco in Normandia, ci ricorda Giovanna d'Arco che lì è morta anche, eccetera, eccetera. Gli invasori erano guidati da Rolf, così lo chiamavano i loro compagni, latinizzato poi in Rollone. Rollone era un grande vichingo, grosso, enorme, mastodontico, che però, come abbiamo spiegato, poi diventò mansueto, con Carlo III e semplice, firmò il trattato e si convertì al cristianesimo e fece costruire, ad esempio, questa chiesa e altre nella città di Caen, anche se tante volte non riusciva del tutto a dimenticare le sue origini e ogni tanto si dedicava alle razzie e alle uccisioni. I normanni comunque, adesso stavo un po' scherzando anche, ma non del tutto, i normanni diventarono agricoltori, fondendosi con la popolazione locale di quella regione che prima si chiamava Neustria, adottarono la religione cristiana, la lingua gallo-romanza, una sorta di lingua proto-francese, dando così vita a una nuova identità culturale, diversa sia da quella degli scandinavi sia da quella dei franchi autoctoni, diciamo, che si trovavano lì nella zona, nella regione, da più tempo. La Normandia corrispondeva alla vecchia provincia ecclesiastica di Rouen, ecco, Rouen, abbiamo detto la città in cui fu uccisa Giovanna d'Arco, la provincia si chiamava, l'abbiamo già detto prima, Neustria. Non aveva frontiere naturali questa provincia, a parte il mare, insomma, a nord, da dove poi sbarcarono, come ben sappiamo, le truppe anglo-americane, ecco, a destra, a ovest e a sud, la Normandia confina con le altre regioni, ad esempio con l'Indefance, ma non attraverso dei confini naturali, quali i fiumi, o meno ancora, monti. Tra l'altro, i normanni, quando arrivarono nella regione, invasero e saccheggiarono anche tutti i monasteri, ma poi, quando diventarono cristiani, li ricostruirono e li rifondarono, tant'è vero che il Mont Saint-Michel, credo che lo conosciate, uno dei posti più suggestivi di questa zona, per bianche della, insomma, dell'alta, della bassa marea che si trova in questa regione, che permette in certi momenti della giornata di raggiungere Mont Saint-Michel a piedi, invece in altri, renderlo praticamente una specie di isola. Bene, lì c'era un monastero che fu prima saccheggiato e distrutto dai normanni e poi ricostruito a testimonianza della loro conversione. Praticamente, dopo pochissime generazioni, non si riuscì più a distinguere tra normanni e francesi e quindi nell'undicesimo secolo quei normanni lì erano francesi al 100%. Questo ci serve per il discorso che faremo adesso su Guglielmo il Conquistatore. La classe guerriera normanna era diversa dalla vecchia aristocrazia francese. Infatti, molti francesi facevano risalire la loro nobiltà a Carlo Magno, quindi fino ai Carolingi, mentre i normanni, ovviamente, non possono vantare antenati precedenti al X o XI secolo. La maggior parte dei cavalieri rimase povera e senza terra. Per questo, molti dei loro guerrieri divennero cavalieri appunto di professione, combattenti di professione, magari addirittura mercenari, in alcuni casi, per potersi procacciare ricchezze e terre. Bene, adesso parliamo di uno degli eventi, degli avvenimenti più importanti della storia inglese, la battaglia di Hastings del 1066. Accadde, infatti, che uno dei vari duchi di Normandia, quindi più o meno dopo un secolo, un secolo e mezzo, da quando i normanni si erano insediati in quella regione della Francia, era imparentato con un re d'Inghilterra che morì. Ora, quindi, gli sembrò naturale a questo re normanno di varcare la manica con un esercito e di andare a prendere possesso del regno, visto che era parente di questo re. Nel frattempo, però, la corona d'Inghilterra era stata presa da un certo Haroldo II. C'era una diatriba fra questi due di chi fosse più legittimato a prendere il regno d'Inghilterra. Però, attenzione, qui parliamo anche di due popoli completamente diversi, nel senso che Haroldo II era il re degli Angli, dei Sassoni, insomma, di coloro che erano in Inghilterra anche dei nobili inglesi presenti sul territorio già da tantissimo tempo, mentre Guglielmo, il conquistatore, era un re dei normanni, della Normandia e quindi praticamente ormai, l'abbiamo già detto, di francesi. e da questo momento in poi quindi si creano i presupposti per quelle guerre, lotte e ostilità tra inglesi e francesi che proseguiranno per secoli. Abbiamo ricordato prima Giovanna d'Arco, quindi, guerra dei cent'anni e tante altre, insomma. Ora, questo Haroldo II era impegnato, mentre Guglielmo, il conquistatore, progetta di arrivare diciamo a Londra, ecco, era impegnato da parte di un altro contendente al trono, il re norvegese Harald. E allora lui fu costretto, Haroldo II, il re d'Inghilterra, a sconfiggere i questi norvegesi, tra l'altro aiutati anche da un altro pretendente al trono inglese, un altro parente. Lui, cioè Haroldo II, vinse questa battaglia contro i norvegesi, praticamente i norvegesi erano, li possiamo considerare, ancora un po' vichinghi, nel senso che così si presentava lo stesso re Harald. La battaglia di Stanford Bridge vide la vittoria di Haroldo II, tuttavia le sue truppe furono decimate e lui non avrebbe mai pensato, una volta ritornato a sud, verso sud, verso il cuore dell'Inghilterra, non avrebbe mai pensato di trovare un altro nemico che lo stava aspettando, che era appunto Guglielmo, il conquistatore. Questo evidentemente favorì la vittoria di Guglielmo, il conquistatore, che era anche un grande stratega. So che a voi piacciono molto le battaglie, mi avete chiesto anche di fare delle serate sulle battaglie, e in un certo senso, così come Annibale nella battaglia di Canne, anche Guglielmo, il conquistatore, riuscì a vincere la battaglia di Hastings grazie alla tattica del fingere di perdere. Ecco, cioè, disse ai suoi cavalieri di far finta di volersi ritirare, questo rese entusiasti i cavalieri inglesi che scesero dalle alture fino a valle per inseguire i loro nemici, ma a questo punto i loro nemici, cioè i normanni, si volsero, li affrontarono, e li sconfissero e li massacrarono. Si trattò infatti di una battaglia piuttosto sanguinosa. Questa battaglia di Hastings è una, dicevamo, delle battaglie più importanti della storia inglese, ricordata nel famoso arazzo di Bayeux. Attraverso questo arazzo noi siamo in grado di ricostruire alcuni degli armamenti utilizzati dai normanni, i loro cavalli, infatti i normanni erano famosi per addestrarsi alla cavalleria, erano molto abili cavalieri e profondevano tutte le loro risorse, i loro mezzi economici per potersi permettere armature e soprattutto cavalli utili per la battaglia, quindi cavalli docili, cavalli che non si impennavano, si innervosivano durante la battaglia, anzi che aiutavano il cavaliere intervenendo anche attivamente nella battaglia. Questa è un po' la battaglia di Hastings, una delle battaglie più importanti dicevamo della storia inglese, che vide la vittoria di Guglielmo conquistatore e quindi insediarsi di una dinastia di re normanni in Inghilterra. Nel 1085 Guglielmo ordinò la redazione del Dumsday Book, il libro del giorno del giudizio. Registrazione di tutte le proprietà, le terre, i bestiami degli inglesi. Si tratta di una sorta di catasto. Pensate che, non so se ricordate, quando abbiamo fatto il dispotismo illuminato, siamo nel Settecento addirittura, abbiamo parlato di questa diffusione del catasto come possibilità di regolarizzare le tasse. Ebbene, pensate che Guglielmo il conquistatore già nel 1085 dopo Cristo, quindi possiamo dire circa Settecento anni prima di questi sovrani illuminati, impose un catasto che consentì di razionalizzare la tassazione delle proprietà inglesi e soprattutto in questo modo fece capire che il re era l'unico proprietario del suolo inglese. I normanni a questo punto però cominciarono a identificarsi con il nome di anglonormanni mentre la lingua anglonormanna fu sempre più distinta dal francese parigino soggetto all'humor di Geoffrey Chaucer un famosissimo scrittore di novelle che probabilmente già conoscete. Diciamo che in questi secoli insomma si evolve in maniera più lineare possiamo dire il francese e invece in maniera un po' più complicata l'inglese perché si dovessero aspettare parecchi secoli prima di arrivare a una normalizzazione della lingua inglese proprio anche per via di questi vari innesti possiamo dire. e qui infatti tra la lingua anglosassone e quella anglonormanna un processo abbastanza complicato che portò attraverso il medio inglese all'inglese poi del seicento quindi si dovete aspettare il seicento in Inghilterra per avere la lingua che è sostanzialmente che usano gli inglesi magari l'alvera è proprio la lingua inglese diciamo moderna mentre per noi italiani la cosa avvenne molto prima grazie a un certo per esempio Dante Alighieri i normanni si espansero però anche in altri territori della Bretagna insomma della Gran Bretagna per esempio nel Galles qui possiamo vedere il castello normanno di Pembrook nel Galles meridionale infatti sotto Robert Fitzhamond signore di Gluchester i normanni occuparono Glemorgan è una regione insomma del Galles nel 1093 nel 1167 Dermott fu cacciato dall'isola fu rimesso sul trono dei normanni del Galles comandati da Riccardo di Clare conte di Pembrook ecco infatti abbiamo già spiegato che proprio Pembrook è quella parte del Galles quella insomma quel posto quel luogo dove c'è questo bellissimo castello dove erano arrivati i normanni ad occupare anche questa zona del Galles i normanni arrivarono anche in Scozia questo è il castello di Dunottar vicino Stonehaven presso Aberdeenshire cioè nella contea di Aberdeen appunto l'Aberdeenshire di Scozia dove gli anglosassoni cercarono di resistere alle invasioni dei vichinghi che hanno giunti già da tantissimo tempo anche secoli prima e comunque come vi stavo spiegando anche altri normanni questa volta dal sud magari arrivarono appunto a nord quindi in Scozia a cercare di conquistare la Scozia anzi lo stesso Guglielmo conquistatore invasi il regno di Scozia nel 1072 giungendo fino al Firth of Thay dove si incontrò con la flotta Malcom il re di Scozia fece atto di sottomissione pagò l'omaggio a Guglielmo gli diede come ostaggio il figlio Duncan insomma i normanni penetrarono in Scozia costruirono castelli diedero inizio a una serie di nobili famiglie da cui discesero alcuni futuri sovrani come Robert Bruce i fondatori dei clan scozzesi delle Highland rimase comunque separato il regno di Scozia rispetto a quello di Inghilterra fino a quando come ben sappiamo nei secoli successivi gli inglesi sconfissero definitivamente gli scozzesi e si arrivò all'annessione della Scozia i normanni giunsero perfino in Irlanda qui abbiamo per esempio le rovine del castello di Trim nella contea di Meath in Irlanda i normanni si insediarono nell'Irlanda durante il decimo secolo quindi prima ebbero un effetto profondo sulla cultura la storia la composizione etnica e anche sulla lingua dell'Irlanda con una fusione e mescolanza molto rapida si insediarono soprattutto nella parte orientale dell'isola verde poi conosciuta come Pail dove costruirono molti castelli e insediamenti come appunto quello di Trim ma arrivarono anche a Dublino inoltre arrivarono in una zona in una regione della Spagna a Tarragona nel 1129 l'arcivescovo di Tarragona cedette la città in vassallaggio a Roberto Burdè un cavaliere normanno che aveva servito agli ordini di Alfonso I d'Aragona ebbene Roberto Burdè era un normanno che ottenne il titolo di principe di Tarragona Princeps Tarragonensis nei secoli successivi tuttavia la zona di Tarragona fu nuovamente riannessa alla alla Ragona quindi diciamo alla Catalogna è una regione importante comunque quella Tarragonense bene è arrivato finalmente il momento di parlare dei normanni nell'Italia meridionale qui possiamo vedere in queste cinque cartine quali sono stati come dire i vari passaggi come si presentava l'Italia meridionale intorno all'anno mille dopo Cristo quando ancora i normanni non vi erano giunti si presentava come una sorta di mosaico puzzle in cui erano presenti dei ducati longobardi come per esempio quello di Benevento una città marinara come Amalfi principato di Capua principato di Salerno poi però vi erano delle vaste zone soprattutto in Puglia e Calabria sotto l'impero bizantino e lì c'erano diciamo i greci ecco si parlava anche in greco c'era la religione ortodossa c'era un forte legame intendo dire con il patriarca di Costantinopoli e poi la Sicilia era invece in mano agli arabi ai musulmani c'era un emirato l'emiro proprio di Palermo possiamo dire intorno al 1013 incominciano ad arrivare i normanni e si insediano nella regione della Puglia e quindi vicino a Versa se non erro in modo particolare adesso lo vedremo però anzi possiamo subito vederlo con la cartina successiva allora scusate a Versa si trova vicino a Napoli quindi è in Campania invece è Melfi che si trova in questa zona dell'interno tra la Puglia e la Campania proprio al confine possiamo dire quindi il primo insediamento comunque è ad Aversa e poi a Melfi abbiamo un ulteriore insediamento ci sono come vedete in questa cartina molte battaglie e anche molti castelli costruiti dai normanni ecco fu nel 1029 infatti che questo mercenario normanno che all'inizio giunge là come una sorta di avventuriero ecco ottiene il cosiddetto la contea di Aversa quindi questa piccola zona sopra Napoli a nord di Napoli nel 1043 i fratelli Altavilla quindi di questa importante dinastia normanna ricevono dal duca di Salerno invece la contea di Mè di Melfi questa contea invece nella zona più all'interno nel 1059 abbiamo Roberto il Guiscardo ecco Roberto il Guiscardo indubbiamente è uno dei più importanti re normanni dell'Italia meridionale che riuscì a creare uno stato decisamente più esteso infatti divenne duca di Puglia e di Calabria in buona sostanza Roberto il Guiscardo esautorò gli amministratori bizantini a dir la verità qui in Puglia e in Calabria non c'erano non c'era non ci fu una difesa ecco da parte dell'impero bizantino di questi territori sufficiente quindi molto più agguerriti i normanni conquistarono questi territori all'inizio furono visti con molto sospetto per esempio dal Papa ma subito questi normanni si allearono con il Papa si presentarono come dei principi cristiani e quindi ottennero una sorta di imprimatur anche dal Papa e qui abbiamo una serie di importanti dicevamo condottieri il primo del primo abbiamo già parlato quindi si tratta di Roberto il Guiscardo i normanni riuscirono con Roberto il Guiscardo a scacciare dal meridione la presenza bizantina con molte spedizioni che culminarono nel 1060 con la conquista appunto della Puglia della Calabria di tutti questi territori insomma bizantini ad opera di Roberto il Guiscardo che occupò la città di Reggio Calabria e lì confermò il suo titolo di Duca di Calabria in seguito gli Altavilla che erano già duchi di Puglia scalzarono l'ultimo principe Longobardo con la conquista di Salerno nel 1077 si crearono pertanto i presupposti per l'unificazione del sud quindi Salerno divenne la nuova capitale del Ducato di Puglia di Calabria e quindi tutto il sud peninsulare tutta l'Italia meridionale peninsulare fu unificata ecco qui per esempio abbiamo appunto abbiamo detto Roberto il Guiscardo ma la Sicilia continuava a essere sotto il dominio dei musulmani i normanni cominciarono a combattere contro gli arabi musulmani e alla fine vinsero e divenne re di Sicilia successore possiamo dire di Roberto il Guiscardo cioè Ruggero I grazie a Ruggero I che fu re dal 1061 al 1091 si completò la conquista della Sicilia Roberto il Guiscardo ultimò la sottomissione del sud tentando di espandersi addirittura a est dell'Adriatico ma non ci riuscì comunque colui che unificò effettivamente tutti i regni dell'Italia meridionale fu Ruggero II chiamò questo regno il regno di Sicilia questo regno era considerato una sorta di feudo del papa quindi sotto Ruggero II si completa dicevamo la conquista del sud qui vediamo per esempio Ruggero II in abiti in stile arabo in una pittura del soffitto ligno della cappella palatina di palazzo dei normanni a Palermo una volta conquistata Palermo infatti insomma abbiamo detto Ruggero I e soprattutto Ruggero II si resero conto di trovarsi in una città bellissima dove c'erano delle testimonianze architettoniche che dimostravano una cultura un'arte insomma raffinata e Ruggero II in modo particolare era anche molto affascinato dall'arte insomma dalla cultura in genere e quindi riuscì anche attraverso le sue maestranze a creare una fantastica mescolanza di stili un nuovo stile insomma realizzando delle strutture quale appunto il famosissimo palazzo dei normanni che conteneva in sé anche elementi dello stile architettonico e anche raffigurativo per esempio nelle decorazioni degli arabi che erano stati i signori della Sicilia fino a lui fino a Ruggero I e lo stesso Ruggero II insomma noi conosciamo spero che voi siate andati a vedere la bellissima cappella palatina di Palazzo dei Normanni a Palermo si tratta di uno scrigno con delle raffigurazioni veramente stupende magnifiche che è una testimonianza di questo stile ibrido perché si vedono continuano a vedersi vi ripeto elementi arabi all'interno però di un di un contenuto ecco che è decisamente cristiano perché come abbiamo spiegato i normanni si ergono adesso a paladini della cristianità difensori della cristianità e quasi si si completa attraverso di loro una sorta di reconquista della Sicilia per esempio che era appunto in mano ai musulmani e di fatti si si stringe un legame profondo fra i normanni e il papa e così il papa che come abbiamo visto all'inizio vede con grande sospetto questi invasori provenienti dal mare alla fine invece riconosce il ruolo che ormai svolgono i normanni che hanno svolto anche di normalizzazione di unificazione e di cristianizzazione addirittura della Sicilia e quindi sostengono anche e quindi per esempio ci saranno delle come dire delle abbiamo detto sono un feudo papale quindi insomma delle dall'alto delle giustificazioni da parte del papa di quello che è il potere dei normanni in Sicilia qui vediamo proprio la massima espansione del regno di Sicilia con gli altavilla nel XII secolo con Ruggero II ci furono delle conquiste anche dall'altra parte del mare Mediterraneo quindi nell'attuale Tunisia è parte della Libia insomma della costa libica fino ad arrivare quasi quasi a Tripoli insomma con Ruggero II abbiamo la massima espansione di questo regno e così anche con i suoi successori il regno continua a essere importantissimo i suoi successori sono Guglielmo I detto Guglielmo I e Guglielmo II ecco però come stavo spiegando Guglielmo II non c'erano più discendenti diretti quindi diciamo maschi re di maschi di questo di questo regno e quindi Guglielmo indica la zia Costanza d'Altavilla come erede obbliga i cavalieri a giurare fedeltà a Costanza d'Altavilla Costanza d'Altavilla si sposa con con uno degli Hohenstaufen se non sbaglio Enrico IV partorisce Federico II e da quel momento in poi l'Italia meridionale passerà sotto gli svevi però questo passaggio dai normanni agli svevi avviene per via di un matrimonio quindi non in maniera così cruenta e sanguinosa parliamo adesso dei normanni in Terra Santa i sovranni normanni furono tra i primi a rispondere all'appello del Papa che come vedremo la prossima volta parlando della prima crociata al concilio di Clermont chiese ai sovrani e ai popoli insomma cristiani d'Europa di andare a liberare il santo sepolcro da coloro che impedivano ormai ai pellegrini di giungere a visitare i luoghi dove era vissuto Cristo e quindi anche le chiese che erano presenti in Terra Santa dicevamo che ormai i sovrani normanni si presentano come tra i sovrani più cristiani dell'Occidente si riunirono quindi nel 1097 a Costantinopoli insieme a tutti gli altri sovrani europei che avevano deciso di partecipare alla prima crociata in particolar modo dalla Normandia giunse Roberto figlio di Guglielmo e dal sud Italia Boemondo e Tancredi d'Altavilla con Boemondo d'Altavilla figlio di Roberto e Guiscardo i normanni dell'Italia meridionale conquistarono nel 1098 anche la ricca città di Antiochia nel corso della prima crociata e governarono poi il principato di Antiochia pensate fino addirittura al 1268 quando ormai Gerusalemme era stata riconquistata dai come dire dai musulmani questo è l'ultima slide vorrei infatti fare riferimento visto che ho parlato della reconquista spiegare un po' qual è invece la reconquista quella spagnola ecco quello che avviene abbiamo visto in Sicilia ad esempio nell'Italia meridionale è analogo a quello che sta avvenendo in quasi tutta la Spagna si può dire nel senso che i musulmani avevano conquistato gran parte della Spagna avevano lasciato i cristiani solamente il nord della penisola iberica con i regni di Leon Castiglia Navarra e Aragona dopo il 1064 però incomincia l'offensiva cristiana che porta all'occupazione di Toledo quindi incominciano a scendere verso sud a recuperare alcune delle città più importanti che erano invece in mano erano state in mano ai musulmani in questo periodo vive il conte Rodriguez Diaz che diventerà poi Sid Campiador eroe dell'epica spagnola che porterà poi anche a una trasposizione quindi anche a una potremmo dire non so anche a una trasfigurazione e anche una sorta di esagerazione di alcuni aspetti di quello che era stata invece la storia di questo condottiero come possiamo vedere da questa cartina quindi la riconquista incomincia in questo secolo che noi stiamo studiando cioè quello di l'undicesimo secolo con la conquista di Toledo di cui abbiamo parlato nel 1085 e poi si completerà nei secoli successivi ma ne parleremo nelle prossime lezioni di storia della 1200 del 1100 del 1200 del 1300 e del 1400 quando verranno riconquistati alcuni territori della Spagna centrale nel XII secolo il Califato di Cordoba nel XIII secolo e infine il Regno di Granada nel 1492 benissimo è arrivato il momento di come dire di vedere i vostri commenti perché sono terminate le slide quindi facciamo rivedere il mio faccione a 360 gradi qui agli amici di YouTube andiamo a leggere i commenti che sono stati scritti dai nostri amici di YouTube che salutiamo Melvin Johnson yes molto interessante professore benissimo oh certo che ti saluto that's feds ti saluto perché in genere lo faccio alla fine insomma dell'incontro della lezione del video perché si chiama Regno delle Due Sicilie e non Regno di Sicilia no questo periodo si chiama Regno di Sicilia poi quando in altri secoli insomma siccome c'era una sorta di come dire di ambivalenza se vogliamo anche di competizione in particolar modo tra Palermo e Napoli questo Regno assumerà il nome di Due Sicilie come indicare che ci sono due Italia Meridionale due parti dell'Italia Meridionale quella peninsulare e quella insulare che nel corso della storia l'abbiamo visto anche con i normanni oggi si sono un po' distinte fra di loro e quindi questo è il motivo per cui viene chiamato in questo modo ma secoli e secoli dopo non dai normanni ma da altri signori grazie Giuseppe Daniello che ci dice proprio ottima spiegazione grazie mille buona serata Giuseppe Daniello yes Bruno Cassar molto interessante lezione molto interessante abbracci dal Brasile addirittura Bruno Cassar ci ha seguito dal Brasile salutiamo anche Antonio Costa Simone Pauleschi e anche il nostro amico Aixer che è stato il primo a seguirci da da Instagram per concludere visto che come al solito il nostro amico Melvin Johnson ci ci fa delle domande insomma stimolanti andiamo subito a spiegare quando viene assunto il titolo di Regno delle Due Sicilie il Regno delle Due Sicilie fu una monarchia assoluta che governò l'Italia meridionale e la Sicilia dal 1816 al 1861 pertanto il titolo tra virgolette di Regno delle Due Sicilie fu assunto dai Borboni dopo il congresso di Vienna quindi dopo la restaurazione una volta sconfitto Napoleone fu assegnato fu assegnata nuovamente ovviamente ai Borboni che c'erano stati anche prima l'Italia meridionale e forse anche per segnare una sorta di discontinuità i Borboni intitolarono il Regno in un modo diverso cioè lo chiamarono Regno delle Due Sicilie intendendosi per le Due Sicilie la Sicilia vera e propria e l'Italia meridionale peninsulare questo Regno Regno delle Due Sicilie cadde come ben sappiamo con la presa dei Mille e con l'arrivo dei Savoia benissimo è arrivato il momento di salutarci ricordatevi dopo domani che leggeremo e commenteremo insieme la canzone petrarchesca chiare fresche e dolciacque mercoledì 22 settembre il Terzo Papa parleremo del Terzo Papa quindi Cleto Papa Sant'Anacleto e poi il 24 settembre commenteremo e interpreteremo tre canzoni tratte dall'album Due Anni Dopo di Francesco Guccini Lui e Lei Primavera di Praga e Vedi Cara il 26 settembre Urbino geografia e storia di una delle città più suggestive ecco dell'Italia centrale 28 settembre Telemaco Signorini pittore macchiaiolo molto raffinato e anche grande teorico dell'arte oltre a essere appunto un pratico diciamo un pittore poi ancora ci troveremo il 2 ottobre no scusate il 30 settembre per l'Enrico IV di Pirandello uno dei drammi pirandelliani più importanti e famosi sabato 2 ottobre Budapest una capitale l'abbiamo studiato l'altro giorno che Budapest era una delle due capitali dell'impero austro-ungarico si chiamava così l'impero proprio perché c'era due capitali una dell'Austria e una dell'Ungheria serata James Taylor 4 ottobre La vita agra di Luciano Bianciardi un importantissimo romanzo degli anni 60 in Italia il 6 di ottobre bene un salutone a tutti quanti vi ho già salutato ad uno ad uno a tutti e quindi è il momento di insomma di salutare tutti quanti e di grazie del chiarimento di C.M. E di ricordare che da questo momento in poi il video rimarrà salvato su Youtube per sempre sul mio canale grazie a tutti